ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e vi voglio proporre una cosa ragazzi questo è un nuovo video in pratica in cui voglio proporre una sorta di classifica che farò ogni settimana e sarà una top 5 ragazzi in cui andremo a vedere i completi più belli salvati in utia online allora come state vedendo io ho passato i completi quelli che ho io insomma giusto per farvi capire in che cosa consiste il tutto diciamo no e questa top 5 andrà a vedere una classifica come dicevo i migliori 5 completi della settimana ragazzi fino ad arrivare al numero 1 e questi 5 completi ragazzi saranno i vostri i vostri completi se avete voglia di comunicarmeli l'unica cosa che dovete fare è andare nel mio canale andare in discussioni ragazzi e dovete andare a mettere in discussione quello che io sto scrivendo adesso cioè scrivete il link del video se magari lo avete caricato sul vostro canale youtube iscrivete il link del video e io andrò a vedere il completo e lo pubblicherò in uno dei miei video ogni settimana in pratica allora per per fare questo l'importante che i vostri video siano diciamo visibili nel senso che comunque deve essere registrato in maniera chiara insomma che il completo si veda bene insomma non una cosa fatta alla carluna col telefonino però comunque sia una cosa fatta bene e nulla io in pratica poi nel corso della settimana andrò a vedere tutti i vostri video andrò a vedere quali sono i completi più belli e comunque vi citerò nel video quindi sarete nel mio video con il vostro completo tratto da un vostro video allora per chi mi può contattare su youtube mi contatti su youtube altrimenti comunque potrete anche contattarmi sul mio canale facebook ragazzi che è maximiliano romano lascerò il link basso a destra di questo video andate a cliccare in basso a destra del video e troverete il mio canale facebook allora ragazzi volevo anche dirvi un'altra cosa ultimamente youtube è un po di tempo che non invia le notifiche agli utenti quindi in pratica adesso vi voglio far vedere più o meno penso che molti lo sappiano ma molte altre persone no come dovete fare per ricevere le notifiche di un canale youtube in particolare del mio ragazzi se volete ricevere le notifiche allora adesso andiamo su un canale qualunque io vado su frank madano qui scusate ragazzi e mi vado a iscrivere mi vado a iscrivere una volta iscritti ragazzi comparirà una rotellina cliccate su questa rotellina e vi comparirà questa finestra in maniera tale che vi farà spuntare l'opzione del canale youtube e per rimanere sempre aggiornati ragazzi per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti ciao